Musica E' un attimo di attesa che aspettiamo l'altro pubblico e vi presento Benvenuti allora a questo secondo momento dei nostri sei momenti musicali e adesso abbiamo il piacere di ascoltare Angela Mileti che ci suonerà la gavotta e variazioni di Rameau e la seconda partita di Bach Angela Mileti Applausi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.